Anna è appena tornata dalla palestra e cerca uno spuntino goloso ma sano. Mirko è a casa in smart working e dopo l'ennesima call cerca una spiziosa ricarica di gusto. Alice è appena tornata da scuola affamata. Cos'hanno in comune Anna, Mirko e Alice? Semplice! Hanno nel frigo i prodotti Montronella. Anna, Mirko e Alice sanno che Montronella è felicità. Grazie a tutti.